Eccoci qua, bella a tutti dal vostro Gabbo Man, siamo tornati su PES 2016 perchè c'è sta un argentino che mi interessa parecchio, ossia Best of October, me voglio fare uno spacchettamento, andiamo subito al contratto, ci facciamo le classiche 5 pescatozze, speriamo oggi di beccare un pallone nero perchè ce n'ho assolutamente bisogno. Non che ce n'avete, cioè c'è una bella squadra per carità, però io ho sempre bisogno dei palloni neri, quindi senza perdetempo, se paga con GP, se conferma, prima pescata del giorno servita su un piatto d'argento, i palloni neri sono ancora due purtroppo perchè non è arrivato al 15% di probabilità. E quindi ho pescato il primo pallone oro del giorno, quest'infamore che stoppa de petto, ma chi cazzo è? È Cabral, questo ce l'avevo pure l'anno scorso, è un bel giocatorino, certa de vico però naturalmente c'ho giocatori migliori, questo novellini e pedalare. Che c'ha de bono? Elevazione 85, equilibrio 83, recupero palla 81, 79, colpo de capoccia con colpo de capoccia di abilità principale. Aggiungiamola ai membri MyClub, famose la seconda pescata del giorno, dai è così, best of October, pagamo con GP, confermamo, eccolo qua. Oh, ce riuscirò oggi a pescare sto cazzo de pallone nero? Io voglio il pallone nero, eccolo, lo schiaccio mo, mo devi rigirare, non te fermare, state fermo, comincia ad affermare, comincia ad affermare, bravissimo, bravissimo, ma sei inferno, voglio un top player. Eh? Porca puttana, m'ho visto, eh ma questo è un top player, è Nasrili Mortacci! Cazzo se è forte questo! E mo chi metto tra lui e Van der Waart? Bella domanda! Porca, due fenomeni ragazzi, eh, due fenomeni. Non lo so, ce devo pensare perché questo è un giocatore chiave, 28 anni, questo è fortissimo ragazzi, dribbling 90, che a me piacciono tantissimo i giocatori che hanno parecchio dribbling. Passaggio raso terra 86, effetto 84, abilità offensiva 83, chi più ce ne ha più ce ne metta, c'ha il passaggio di prima, c'ha l'esterno a giro, c'ha il passaggio calibrato e altre tre abilità dei giocatori, porca puttana! Oh, incredibile! Questa è una pescata fenomenale! Quindi, io aggiungerei ai membri MyClub e andrei avanti! 14,8 pallone nero, però comunque l'ho beccato, dai, alla seconda botta! Riprovamoci ancora, best of fuck top player! Pagamo con GP, riconfermamo, oh, comunque è un altro bel top, praticamente da 85 di VGG! Allora, schiaccio sempre sul nero, te devi rifermare sul nero! De cattiveria! De cattiveria! De poco, de poco, vabbè, ok! Chi è quest'altro? Da solito stop de petto! Oddio! Mamma mia! È Beraino? 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 Non lo so, ma mai sentito in vita mia questo? Però è forte, oh! 22 anni, opportunista, c'ha velocità, c'ha pure parecchio tiro, c'ha un buon dribbling, però pecca nei passaggi! Vediamo un po', abilità offensiva 82, stessa cosa, potenza tirompente, finalizzazione, velocità 81, quindi un ottimo giocatore, dai! Aggiungiamo ai membri MyClub, quarta pescata del giorno, non perdiamo tempo, pagamo con GP, riconfermamo, voglio il secondo top! Top player, perché ce ne stanno veramente tanti! Ho visto nella lista veramente tanti bei giocatori forti, è arrivato il momento de' beccarli! Ecco, perfetto, vabbè, pallone oro, dai, per oggi comunque Nasri l'ho preso e c'ho un'altra possibilità! Stop! È burdisso! È sochisso, come si dice da ste parti! È burdisso! Oh, incredibile! Oh, ammazza che forte! Incredibile, bellissimo, dai, mi piace come giocatore, non è male, 77, molto equilibrato, questo allenato potrebbe diventare tranquillamente pallone nero! Allora, elevazione 83, abilità difensiva 82, colpo di testa 81, recupero palla 80, c'ha pure astuzia, perfetto! Così, se aggiunge ai membri MyClub, ci facciamo l'ultima pescata del giorno! La cosa buona è che siamo arrivati al 15%, ci dovrebbero stare tre palle nere! Se paga con GP, se riconferma, dai, così! Allora, vediamo un po', eh! Una, due e tre, perfetto! Io mo schiaccio su quella isolata, che dite voi? Ma sì, dai, un po'! Mo' aspetta! Aspetta, eh! Te devi fermare adesso! Beh, benissimo! Secondo, questo è un top! Questo è un top player! Non è un top player! Non è un top player! Porca putt... Non è un top player! Questo è Walcott, porca putt... Non lo so io, cioè, ho pescato uno dei giocatori più veloci del gioco! Incredibile! 81 è da inglese North London! 26 anni, ha la prolifica! Questo è veramente un pisellone veloce! Cioè, in realtà, un pisello veloce non è che è molto... Vabbè, vabbè, lasciamo perdere sto discorso! Comunque sia... Guardate qua, ragazzi! 97 potenza dirompente! 96 velocità! Finalizzazione 83! Ottimo! Dribbling 81! Questo è un bel giocatore, regà! Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel mi piace! Commentate! Condividete! Iscrivetevi al canale! Io spero che sta cazzo di influenza mi abbandoni perché sto veramente rovinato! Sarà un weekend veramente lungo con sta cazzarola di febbre! Ve saluto, regà! Alla prossima! Bella a tutti! Ciao!